Facciamo finta che siamo membri di un club del libro. Periodicamente si sceglie una lettura e ci si incontra per scambiarsi pareri e punti di vista. Ora, se vi presentate all'appuntamento senza aver letto il libro o, peggio ancora, senza neanche sapere il titolo, viene da sé che tutti si domanderanno che cosa ci fate lì. Farete una pessima figura e vi giocherete la possibilità di essere coinvolti nuovamente. La storiella è buona perché rappresenta benissimo, seppur banalmente, quanto sia fondamentale presentarsi a un colloquio di lavoro conoscendo l'interlocutore. Personalmente, dopo aver ascoltato il candidato mentre si presenta, la prima domanda che faccio è sempre che cosa sai di noi? Ed è incredibile scoprire come il 90% fa scena muta. La maggior parte non sa di cosa si occupa l'azienda, il che significa che non ha speso 5 minuti per un rapido giro sul sito web. Ma in alcuni casi ho addirittura incontrato persone che neanche se ne ricordavano il nome. Quindi, consiglio numero 3, presentatevi ai colloqui preparati dopo aver studiato attentamente chi è e che cosa fa l'azienda dalla quale vorreste essere assunti. In caso contrario, non solo non avrete il lavoro, ma vi lascerete dietro anche una pessima reputazione.